Ipotizzare un ricco e significativo percorso turistico e di valorizzazione del territorio di Piaggine con punto di riferimento all'ex convento. Continuano alacremente i lavori per il recupero dell'antichissima e suggestiva struttura che potrà diventare un punto di riferimento per l'accoglienza di turisti amanti della montagna. Un progetto attentamente studiato per il recupero delle aree antiche dell'edificio e per la realizzazione di ambienti capaci di ospitare i visitatori. Inoltre sarà attrezzato anche di luoghi idonei dove poter creare iniziative culturali. L'importante finanziamento ottenuto consentirà quindi il recupero complessivo dell'ex convento e la sua completa fruizione diventando punto di riferimento di un più ampio progetto capace di intercettare le domande provenienti dagli amanti del turismo montano e culturale e intorno ad esso creare quindi anche validi opportunità di sviluppo del settore. A credere fortemente nel progetto il sindaco Guglielmo Vairo certo dell'importanza che può rivestire per la comunità e per la sua economia. I lavori stanno andando molto bene, pensiamo che nel giro di qualche mese verranno consegnati, sicuramente prima della fine dell'anno. C'è una riflessione riguardo all'indirizzo, la destinazione da dare a quest'opera, sicuramente non dovrà essere una cattedrale nel deserto come qualcuno già inizia a dire, ma dovrà essere un'opera e una struttura che dia lavoro, di opportunità, crea opportunità ai giovani soprattutto di lavorare a Piaggine. Per la vocazione di questa struttura è turistica. Il progetto nasce nell'84 come un progetto per il turismo, per accogliere i nostri turisti, i visitatori di Piaggine e quindi dare ai visitatori accoglienza, ospitalità e indirizzo e informazioni. Oggi, a differenza dell'84, sono nate altre strutture turistiche e noi non vogliamo metterci in concorrenza col privato, con quest'altra opera, quindi apriremo una riflessione, può darsi in consiglio comunale per dare una destinazione anche diversa a quella che è originaria dell'opera e quindi turistica. Lavori addirittura d'arrivo. Gli operai sono impegnati nella realizzazione degli impianti e nella tinteggiatura. La consegna dell'opera è prevista per i prossimi mesi, comunque entro la fine dell'anno.